Ciao, mi chiamo Tali, sono andata a Svizzera, Cinevra, e studio in italiano perché mi piacerebbe fare i miei studi in Italia più tardi. Mi piace moltissimo questo programma di lingua viva perché è bellissimo e gli staff sono moltissimi. Ciao a tutti, mi chiamo Gianni, vengo da Belgio e questo programma mi piace moltissimo. Ciao, sono americana, mi chiamo Sofia Graham. I really really like Lingua Viva because I have met so many people from all over the world and I have gotten to experience so many beautiful things here, such as the beach and classes and experiences that will last me a lot this time. Io mi chiamo Anna, io vengo da Apulgiano a Tradice e io ho 17 anni e sono qui per studiare l'italiano perché mi serve da un buon lavoro. Mi chiamo Devon, vengo dal Canada. I'm not so good in Italian so I'm gonna speak in English. Lingua Viva is really cool because you get to meet people from all around the world and it's a great time. Mi chiamo Giulia e vengo dal Brasile, ma sono nata negli Stati Uniti. Ciao, mi chiamo Nigel, vengo in Svizzera di Libra, mi piace Lingua Viva perché ho incontrato forte amici. Ciao, mi chiamo Tahmina, vengo da Mosca, ho 16 anni, mi piace stare qui perché ci sono molte amici e mi piace stare qui perché ci sono molte amici e mi piace stare qui perché ci sono molte amici. Io studio l'italiano perché voglio vivere qui. Ciao, mi chiamo Idi, vengo da Istanbul e mi piace Lingua Viva. Ciao, sono Kaya e vengo di Slovenia e questo programma mi piace animare. Mi chiamo Dasha, vengo da Russia, ho 14 anni, mi piace molto stare Lingua Viva, questa è la mia seconda volta qui. Mi chiamo Votohan, vengo da Istanbul in Turchia e studio italiano perché voglio studiare in un'università italiana. Io sono Cristian, vengo di Croazia, Zagatria. Mi chiamo Elisabeth, vengo di Bulgaria, ho 14 anni, mi piace Lingua e il mare e questo. Io sono Cristian, vengo da